Grandi sorrisi per una nuova puntata della Beauty TV Show. Ricordatevi di sorridere e di essere felici perché è un obbligo e soprattutto è l'unico diritto che abbiamo nella vita. Ma l'unico diritto e gli obblighi che abbiamo sono anche quelli di tenerci bene, di essere sani, di frequentare belle persone e belli ambienti. Ciao Andrea! Ciao, stai bene? Sì, sempre sorvidente. Mi sento molto fortunata e cerco di fare sempre quello che mi rende felice, mi rende serena. Ora però dobbiamo rispondere a tante mie amiche. Parliamo di SOS capelli. Allora, le ragazze adesso hanno i capelli lunghi, folti. Quando ti chiedono, quando ci chiedono, mi si sporcano velocemente? Che cosa dobbiamo fare? Ma noi sai che usiamo tanto la linea di Kerastase. Quindi la linea di Kerastase ha la sua linea apposta per chi ha problemi proprio dei capelli che si sporcono velocemente. Abbiamo la linea divale dove abbiamo, oltre lo shampoo, anche un'argilla, un'argilla lavante che va più in profondità rispetto allo shampoo normale. Quindi vai a lavorare proprio sulla cute e riesci ad ottenere un risultato molto più duraturo. Ah, ok. E basta farlo una volta a settimana. Dopo tanti ti chiedono, ti dico già io la domanda che ti fanno, ma questa argilla lavante come faccio a usarla? L'argilla lavante è facilissimo perché la usi al posto proprio dello shampoo. Quindi si mette in cute, si massaggia e poi si risciacqua come uno shampoo normale. Non serve usare quel giorno lì il tuo shampoo, lo shampoo che usa lo shampoo. Altra problematica, esistono dei prodotti per la perdita dei capelli? Per la perdita dei capelli esistono prodotti. Cioè, per compensare la perdita? Per compensare, perché sai che anche in questo periodo post-covid, tanti clienti hanno avuto questo problema. Ma chi ha fatto il covid, il 99% viene da noi con la problematica della perdita del capello. Ecco. Proprio anche molto grave, per i capelli intensi. Noi per questo usiamo la linea Genesis della Kerastase, dove abbiamo le fiale classiche da Minoxil, da usare una volta al giorno se uno vuole fare la cura forte. Ok. Quindi la sera la metti sul capello e la mattina non serve a lavare il capello, perché nel metterlo alla sera e la mattina non trovi residui. E poi abbiamo proprio la linea Genesis, dove vai a lavorare proprio per infoltirlo e vai a lavorare anche per proteggerlo, soprattutto quando vai a asciugarlo col phon o passi la piastra. Tanti pensano che passando una piastra, anche quando il capello è asciutto, non rovina il capello, invece si rovina. Difatti il protettivo va messo anche sul capello asciutto. Ok. Questi sono prodotti, secondo me, assolutamente da avere a questo punto. Allora, senti, quindi quando poi ci chiedono, hai un po' già risposto, ho il capello secco, arido. Secco, arido, allora gli diamo la linea Chronologist. La linea Chronologist è proprio l'antiage per eccellenza, è a base di acido nialuronico e qua vai a fare proprio il lavoro di ricostruire il capello. Qual è? E' quella nera. Questa? Sì. Bene, grazie Andrea, preparatissimo, veramente, direi che ti do un nove e mezzo. Bene, dai, lavoreremo per il dieci. Alla prossima puntata! Ciao, ciao!